Oggi per la nostra protesta che stiamo portando avanti da tempo ormai da diversi giorni ad ortranza contro il silenzio dell'amministrazione capitolina dal sito Gianni Alemano e da tutta la giunta capitolina sulla nostra proposta di rotazione intermunicipale da un municipio all'altro punto, intermunicipale dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali. Oggi abbiamo scelto appunto Saxarubra, gli studi RAI di Saxarubra, gli studi dei tre giornali RAI per dare una risposta anche ancora più forte in un organo di informazione, nel sito di un organo di informazione così importante della selezione pubblica. Nella selezione pubblica avevamo già fatto una protesta tempo addietro appunto a Viale Mazzini, dove sono gli uffici appunto burocratici della RAI e oggi tra l'altro qui c'è stato un episodio piuttosto singolare. Mentre stavamo facendo, ci accingiamo a fare riprese per questa nostra protesta, si è avvicinata una donna, una detta della vigilanza, una signorina e ci ha detto che assolutamente non poteriamo fare riprese qui in questo posto. Dice che è prevedà privata. Noi ci siamo spostati leggermente fuori, questo qui non è prevedà privata, siamo proprio oltre il limite, cioè siamo di strada pubblica. Però ci ha detto che non possiamo riprendere la RAI, perché è prevedà privata la RAI? Ma purtroppo ci sono queste errate informazioni, forse Berlusconi probabilmente avendo lottizzato in qualche modo la RAI, forse il TG1, magari Minzolini eccetera eccetera, forse avrà fatto capire, avrà lanciato un messaggio sbagliato e qualcuno ha recepito male purtroppo. La RAI purtroppo è per fortuna, è televisione pubblica. Non ce ne accorgiamo molto, forse tanto, però, è televisione pubblica. E forse la signorina non era molto informata che stava facendo la vigilanza presso un gabbiotto di una televisione pubblica. Comunque siamo spostati, siamo in proprietà adesso ruolo pubblico, perciò continuiamo la nostra protesta. Oggi qui il sito è rappresentativo, perché siamo qui nella televisione di Stato, nella sede dei telegiornali RAI, dove praticamente noi continuiamo la nostra protesta per tutelare la legalità e la trasparenza e l'imparzialità soprattutto dei vigili urbani e degli uffici tecnici comunali come garantito appunto l'articolo 97 della Costituzione italiana. E per tutelare questo noi chiediamo il trasferimento periodico, ogni tre anni da un municipio all'altro. Il sindaco Alemanno aveva demandato tutto all'assessore, al personale Enrico Cavallari, che però ancora non ci dà risposta, non ci ha ancora ricevuti, si passa una palla così, però diciamo che noi continueremo ad oltranza, continueremo a ritenere responsabili i componenti della giunta capitolina, politicamente responsabili, per quanto riguarda eventuali reati che i vigili urbani e i dipendenti degli uffici tecnici comunali potranno perpetrare ai danni della pubblica amministrazione, ai danni dei cittadini, ma soprattutto per salvaguardare quella che la maggior parte, la maggioranza, salvaguarda le mele marce, le cellule deviate appunto di questo tessuto istituzionale, salvaguarda la maggioranza appunto dei dipendenti di questi comparti lavorativi che fanno il proprio dovere con abnegazione e grande attaccamento appunto al servizio. E questo, soprattutto è quello, la cosa più importante, noi per evitare che possano nascere condivenze sul territorio, in maniera preventiva chiediamo il trasferimento ogni tre anni dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici e garantiamo la trasparenza e l'imparzialità, la legalità sul territorio contro la corruzione e contro la concussione appunto di questi apparati lavorativi. Speriamo che il sindaco Le Manno finalmente ci ascolti, altrimenti andremo avanti ad oltranza. I nostri ingatenamenti non si fermeranno qui, le nostre estreme proteste continueranno, grazie anche al supporto di 30.000 romani che hanno apposto la firma su una petizione per chiedere appunto questo trasferimento e stanno continuando a firmare. Grazie.